vado non abbiate fretta perché mi sto facendo accompagnare dalla mia amica che dovreste conoscere a ritirare la corvette da magna e carnevale che io il nuovo coloro ho visto e secondo me è stupendo adesso vediamo cosa dice lei ti sto aspettando guarda che bella macchinetta che ti sei fatto che rennes aderini federico leo sei pronta non sono pronta il problema è che mi conosce bene è per quello che non sono pronta perché come vedi no cioè io sono con la macchina grigia low profile anche questa è se immagino comunque ti ci vedo proprio bene a guidare il trattore allora io sono sicuro scommetto che tu dopo che vedrai la mia macchina brappata brapperà anche la tua se lo dici tu cioè io la posso anche brappare ma di un colore non lo so nero bianco vedrai perché tu che colore l'hai fatta ti muovi che ho fretta allora non è un colore sobrio però ti garantisco che su quella macchina sta bene elegante elegante sempre un giorno discuteremo il concetto di eleganza di federico leo no è elegante guarda fede perché ti voglio bene se no io sappi che ti accompagno ma mi oppongo a tutte queste tue operazioni dovrai dire la verità quando la vedi di la tua forse non fa voi non permettetevi di dire che è brutta quando la vedrete e non andate avanti nel video ma ne vai molto fiera molto fiera delle mie ciabatte adesso la macchina comparirà magicamente davanti a noi ok per intanto andremo a scegliere la macchina dei sogni andiamo quindi è un buon reparto ma sono più interessata alle cose che lo sospensioni grande tipo lei tipo lei ma anche volendo come come fai a salire su questo come panchina questa è la 4x4 al quadrato tutto doppio io posso abitarci qui dentro tutta tua ma mia mia col libretto allora vado ci vedo proprio bene magicamente comparsa è comparsa è lei direi tutta tua scopro io per te vado eh sapevo lo sapevo ok cosa ne pensi diciamo che a livello assicurativo non c'è dubbio che ti vedano agli incroci non so un momento zen devo riflettere devo prendere l'energia e riflettere allora la macchina è molto però adesso ve la mostro bene lei allora ti dico questo che siccome ti voglio bene io a cena con te continuo a venire ma non con questa macchina prima di fare un giretto io so benissimo che tu non sei tamarra come me però è bello questo mi conforta però è bella è molto bella bel lavoro di di factory bel lavoro ciao amici di di factory di factory e mani carnevale sempre andiamo a fare un giro allora vediamo se qualcuno ci nota secondo me piace poi fatemi sapere voi nei commenti se vi piace oppure no se non vi piace non commentate fatevi fatti vostri se non vi piace commentate a me venite da me andate sul suo canale che ha aperto canale youtube sono tutte cose sobri eh ho sentito quello è un buon commento ho sentito quello era un like quello è un like quello è un commento positivo per macchine sobri ed eleganti sapete dove andare per macchine tamarre ed eleganti sapete dove andare vediamo al prossimo video ciao